Oggi cari amici vi parlerò di un quadro di Giorgio Chiaris dal titolo Luce Suburbana, una tempera su iuta e rete del 2006, le cui misure sono 70x95 cm. Un'opera delicata ed elegante, custodita guardate da questo tool che ricorda un po' le opere storiche di Franco Angeli, particolarmente interessante e inoltre pubblicata. Nell'opera troviamo l'esplicazione di tutta l'intelligenza e delle fantasia dell'artista, una vera sinergia tra segno e colore. Un'opera che potremmo tra l'altro considerare come storica, essendo di 12 anni fa, ed essendo Giorgio Chiaris un artista giovane. Artista giovane ma comunque di qualità, con una grandissima scuola alle spalle. Il percorso di Chiaris vaga infatti fra le introspezioni e le ispirazioni dei grandi maestri del passato, come Matisse, ma primo fra tutti come Gastone Bigi, di cui Chiaris fu allievo per anni e che gli ha conferito proprio le basi per una ricerca del tutto originale. Chiaris è anche il presidente dell'archivio Bigi, ma viene e verrà sicuramente ricordato di più come artista, per la sua arte. L'influenza di un grande artista c'è, ma sicuramente la personalità è tutta di Giorgio Chiaris. Ogni sua opera ha una ricerca, guardate questa, che vive proprio nello spazialismo ma lascia comunque la possibilità a chi la guarda di fantasticare. E qui abbiamo una tela sicuramente affascinante ed elegante, dalle dimensioni anche importanti e che si può acquisire a un prezzo estremamente favorevole. La nostra proposta è infatti di 2400 euro, ma per tutta l'estate potete chiamare il nostro centralino e fare voi la vostra controproposta, che vi assicuro vi sorprenderemo. Vi porteremo poi l'opera a casa, potrete venirla a vedere nei nostri studi, sempre senza impegno ed eventualmente acquisirla anche a rate fino a 5 anni. Quindi che cosa aspettate amici? Giorgio Chiaris, tocca a voi!